Un'ultima settimana per centrare l'obiettivo è questa l'aria che dovrebbe essere raggiunta proprio entro pochi giorni e Bitcoin sta stentando in questi ultimi periodi a fare dei movimenti importanti. È un cammino lento però è anche molto pericoloso perché questo tipo di atteggiamento prelude anche a delle accelerazioni di volatilità e potrebbero essere anche negative queste cose qui. Ovviamente solo nel breve periodo. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video il Bitcoin Mondays inauguriamo questa serie ho dato un nuovo nome al lunedì dove facciamo l'analisi di quelle che sono le analisi cicliche previsioni le news di Bitcoin soprattutto su Bitcoin ma anche su altre crypto anche macro in generale però ho detto vabbè lo facciamo da 4-5 anni a questa parte dimogli un nome. Allora benvenuti a tutti in questo nuovo lunedì andiamo a fare previsioni news della settimana analisi macroeconomica quello che potrebbe succedere sui mercati delle crypto soprattutto su Bitcoin analisi ciclica di Bitcoin dove siamo dove non siamo tutto quello che vi serve per arrivare da oggi fino alla fine della settimana. Prima di andare avanti ragazzi vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e poi se mi lasciate i pollicioni che mi date una mano con l'algo di YouTube. Andando avanti volevo farvi vedere prima di passare i grafici di Bitcoin eccetera quello che sono i calendari economici della settimana ma attenzione perché invece di iniziare con il calendario di che cosa ci attendiamo per questa settimana iniziamo invece con che cosa è successo nella scorsa settimana. Perché della roba è stata molto molto importante e molto significativa. Intanto intanto il tasso di inflazione europeo sceso molto al di sotto del previsto di 0,2 punti sotto il previsto è molto più basso del dato precedente. Questo segno che è la decelerazione dell'inflazione a livello europeo è pronunciata molto più pronunciata rispetto a quella degli States che evidentemente hanno una latenza dovuta al picco economico dove il PIL insomma è importante dove l'economia ancora gira molto bene rispetto a quella invece europea che è stata sicuramente più massacrata così tra virgolette dalla questione energetica e della guerra. Certamente ovviamente questa cosa ha influito anche sul ribasso dell'inflazione che ha toccato un nuovo minimo importante ve lo faccio vedere anche dal punto di vista grafico che è ancora più evidente perché vedete il tasso di discesa dal massimo di circa settembre ottobre dell'anno scorso guardate che boom che calo che ha su questo ultimo cluster piccolino questo per farvi capire come anche a livello di tasso di riduzione questo è importante come tasso di riduzione. Tassi fermi quindi per quanto riguarda gli stati europei probabilmente sì anche nei prossimi mesi dovremmo arrivare diciamo a una fase di massimo tra novembre e gennaio febbraio del 2024 è stato così forse un pelino meglio del previsto ma proprio poco poco. Poi ci sono però una serie di dati che sono di natura macroeconomica sulla questione recessione dei Stati Uniti e sono non allarmanti ma tutti negativi e sono tutti questi rossi tra cui abbiamo il tasso di disoccupazione che fa una piccola impennata. Ancora è molto basso intorno al 4,2-4,3 già diventa accettabile per iniziare a pensare a un eventuale ribasso anche di pochissimo dei tassi di interesse della Federal Reserve. Ma poi ci sono anche altri dati di disoccupazione ma poco rilevanti diciamo oscillano intorno a questa valore ma poi abbiamo l'ISM soprattutto quello di ottobre che è peggiore delle aspettative. Ancora sopra 50, sotto 50, indica la possibilità di avere recessioni eccetera. Insomma questi dati sono forse l'inizio di un atteggiamento recessivo che ancora non se ne vede l'ombra negli Stati Uniti ma che comunque qualche bisaglia potrebbe essere così. Dovranno essere confermati nei prossimi mesi e settimane però un qualcosina già c'è. Perché li stiamo guardando ragazzi? Perché ci aiutano a comprendere come la Federal Reserve muoverà i tassi di interesse nel prossimo anno e ci aiutano a comprendere anche le possibili reazioni di Bitcoin e delle criptovalute oltre che dei mercati classici nel prossimo anno. Tant'è vero che i mercati classici già probabilmente in inizio del nuovo ciclo annuale dalla super video ragazzi che se non l'avete visto sui mercati ve lo lascio in descrizione. Anzi sulla mia testa facciamo così oltre che in descrizione facciamo sulla mia testa. E in pratica quella probabilmente anche i mercati Nasdaq insomma i mercati classici hanno iniziato una nuova struttura ciclica importante. Vi faccio vedere anche brevemente i dati per questa settimana perché non c'è niente a parte il discorso di Powell e di mercoledì che potrebbe ribadire un po' quello che ha detto. I mercati non hanno preso bene nella scorsa settimana ma sostanzialmente ribadirà le stesse informazioni che dice da un po' cioè aspettiamo perché l'inflazione ancora non è rientrata, non si vede l'ombra della recessione perciò dobbiamo ancora attendere. Tassi medio alti per i prossimi mesi ma probabile non rialzo dei tassi o comunque siamo alla fine come ha dichiarato di questa fase. Tra le altre cose anche il grafico dei titoli stati americani ha iniziato a tentennare proprio in base alla questione relativa a quello che vi sto appunto dicendo. Quindi proprio questa probabile fase di break. I mercati e le cripto passando a Bitcoin adesso andiamo all'analisi ciclica hanno reagito abbastanza bene la scorsa settimana. Bitcoin è cappato da una fascica che probabilmente è molto rilevante in questo momento, c'è una fase di chiusura di un mensile, lo vediamo oggi. Mentre Ethereum è molto più forte e soprattutto altre cripto più forti. E attenzione alle criptovalute ragazzi, attenzione a non sottovalutarle perché qualcosa si sta muovendo e non è di poco conto. Matic, BNB come nell'ultimo video che vi avevo proposto relativo alla questione del cicli annuali anche di Matic, di Polygon e di BNB. Quindi stanno andando verso quella direzione ma poi altre criptovalute hanno iniziato importanti uptrend che hanno modificato la struttura dell'analisi grafica di molte cripto che sono rilevanti ragazzi. E questo potrebbe essere anche indice di qualcosa che si sta muovendo. Possiamo andare anche a guardare un indicatore, un grafico su questa cosa, lo vediamo comunque alla fine di questo video. Allora andiamo per ordine ragazzi, primo grafico Bitcoin è la questione dell'analisi ciclica. Intanto Bitcoin ha raggiunto lo 0,38 e 2 di Fibonacci come livello di ritracciamento di questo trend ribassista. In pratica noi siamo arrivati allo 0,38 e 2 come livello di ritracciamento del bear market del 2022. Questo è quello che ha fatto Bitcoin, il successivo livello è lo 0,5 di Fibonacci, ve l'ho inserito. Qui ha circa 41, da 39, 40, più o meno la mia previsione per la fine dell'anno. Se vanno in porto alcune cosette che vediamo anche oggi un po' un accenno su questa cosa. Potrebbe arrivarci assolutamente sì, il livello di resistenza a 36.000 dollari è il più importante. Se riesce a distruggerlo proprio in questa settimana ci dà un po' di vantaggio perché poi può arrivare intorno ai 38 perché io se fa un massimo questa settimana mi aspetto che nella prossima settimana ci sia un respiro di Bitcoin. E questo ne parliamo, ma è solo se fa il massimo questa settimana. Quindi se supera i 36.000 questa settimana ragazzi. Altrimenti c'è la questione ciclica. Allora, qui abbiamo due view differenti. Il mercato dovrebbe andare a chiudere un ciclo mensile intorno ai 30 giorni, tra pochissimo, cioè teoricamente tra un paio di giorni. Questo dovrebbe essere il discorso. Allora, qui siamo a lunedì. La struttura ciclica dovrebbe essere in prevista, diciamo in chiusura, venerdì prossimo. Quindi teoricamente questa dovrebbe essere una settimana di respiro e di ribasso. Allora, questa ipotesi, quindi due o tre giorni di rosso, ci potrebbe stare. Però coincide un po' poco con un'altra view, ragazzi, che è una questione un po' più tecnica, cioè legata alla struttura dei cicli inversi. E quindi non ne parliamo qui, però in pratica legata alla struttura di dove potrebbe andare a fare il massimo dell'anno 2023. Bitcoin se lo fa verso dicembre. Allora, questa cosa non ci sta benissimo con quella view. Quindi, in pratica, la teniamo in considerazione, considerando che appunto il precedente ciclo mensile aveva chiuso più o meno da 30 giorni. Considerate che è difficile anche che i mercati, ragazzi, siano così precisi, che vadano a fare un mensile proprio 30 giorni. Cioè, qualcosina in meno di solito in più avviene. Allora, c'è un'altra ipotesi in gioco, cioè che questa struttura qui vada ad essere un unico ciclo che va a chiudere poi sia il mensile che il trimestrale e che faccia quindi questo atteggiamento qui. E vada a innescare, in pratica, un trimestrale più corto, intorno ai 70-72. Di solito li fa tra gli 80 e i 90-95. Li fa lunghi Bitcoin. Considerando anche che questa è una fase up, teoricamente dovrebbe essere lungo questo trimestrale. Però io questa view la tengo in considerazione. La chiameremo ipotesi 2 per questa settimana. Ma sarà svelata brevissimo perché per questa ipotesi in atto o questa settimana andiamo a rompere i 36.000 o è difficile che questa ipotesi stia in piedi. Già, infatti, se nella settimana attuale andiamo a fare qualche giorno rosso, qualche candela rossa così, allora può essere che siamo, come vi dicevo, nella prima ipotesi, cioè quella che il ciclo mensile debba andare in chiusura a brevissimo, intorno appunto a venerdì prossimo, domenica, questa zona qui. Quindi potremmo avere una fase di lateralità e poi, boom, questa chiusura fatta in questo modo. Questa è l'ipotesi 1 che noi teniamo in considerazione, ma l'altra ipotesi che vi ho svelato oggi in questo video, che non ne ho ancora parlato in Academy, lo faccio tra poco, ma poi questo video esce più tardi per YouTube e quindi comunque siamo lì. Allora, potremmo assistere a questa fase qui e poi una chiusura che a questo punto deve segnare il massimo e andare in close entro metà del mese di novembre, più della metà, in realtà intorno al 22 del mese di novembre. Quindi potremmo avere una settimana di massimo, dove in pratica Bitcoin va a disegnare un massimo e qui vi ho messo la fase di breve, il time frame 90 minuti che io utilizzo per il mio trading settimanale di brevissimo periodo. Questa fase dovrebbe essere una fase che tendenzialmente può, se brecca appunto di 36, fare una zona di massimo in questa fascia qui di prezzo. Se fa questo siamo nell'ipotesi 2 che vi stavo dicendo, quindi probabilmente andiamo ad allungare questo mensile un po', andiamo a fare il massimo del ciclo trimestrale e poi direttamente in chiusura del ciclo trimestrale per Bitcoin. In pratica un atteggiamento fatto in questo modo, che ci sta perché configura poi anche 10 giorni e una settimana di respiro che può essere più pronunciato, proprio magari al pullback dei 36 mila, perché no anche un po' giù, 34-35 mila, questa fascia qui che è stata anche una fascia imponente per Bitcoin, visto che vedete qui come sta stentando. Quindi due le ipotesi per questa settimana evidentemente visibili, cioè se iniziamo a salire tra oggi pomeriggio e domani dopo domani siamo nell'ipotesi 2, se invece stenta ancora e dentro mercoledì non ha fatto grandi pump, ragazzi io starei sull'attenti perché si rischia di avere appunto quella chiusura del mensile che a quel punto potrebbe andare anche ad impattare alcuni livelli o creare un po' di panic selling perché potrebbe innescare una spirale di vendita qui ed arrivare anche a 33-32-5 anche, è un po' eccessivo però lo può fare. Guardate qui la chiusura mensile precedente è stata fatta in questo modo. Ora dopo il rialzo di questa levatura delle ultime settimane nulla vieta, vedete da qui a qui abbiamo avuto un meno 7, nulla vieta a Bitcoin di andare a spararsi un meno 7 e arrivare intorno ai 33 ma anche aumentarlo 32-5 essendo questa fase rialzista stata molto pronunciata. Questo lo può fare se siamo nella chiusura del ciclo mensile. Io però sto attento, ancora oggi sto gestendo delle posizioni in long position perché questa ipotesi 2 la prendo in considerazione per una questione che vi dicevo legata ai cicli inversi si sposta meglio con una questione legata ai cicli inversi. Ora qui bisogna essere poi trader, sapete come funziona eccetera. Vi faccio vedere anche il grafico di Ethereum e poi andiamo a vedere invece il grafico più importante che ci apre una finestra sulla quale voglio anche un po' il vostro commento, anzi ve lo mostro in spoilerata che è questo qui. Ragazzi questo è un grafico secondo me importantissimo per il futuro dell'anno 2024 e ve lo accenno oggi ma secondo me lo dobbiamo tenere a mente. Vi faccio vedere solo le TH per questa fase intanto i target ribassisti li possiamo anche eliminare, qui diciamo che sono stati ampiamente raggiunti il 2 no però per fortuna per Ethereum non è stato raggiunto quindi lo andiamo a cancellare soltanto il test. Allora vi faccio vedere la questione su ETH. ETH è molto probabile che da questa zona qui abbia chiuso il ciclo annuale e abbia iniziato una nuova fase. Ora che questa zona qui sia appartenente al nuovo ciclo non è possibile perché ETH ha fatto un nuovo minimo. Quindi avendo fatto un nuovo minimo sia in close e vicino anche in shadow questo ciclo mensile non è più appartenente a questo movimento che stiamo vedendo ma appartiene al precedente. Questo significa tra le altre cose che è tutto traslato ed indicherebbe anche il perché ETH in questo momento ha molta più forza di Bitcoin perché è in una fase ciclica più forte in questa fase. Qui abbiamo avuto un 120 che poi sostanzialmente è un trimestrale più una lingua di buyer. Questa è la lingua di buyer che è stata un mensile quindi in realtà ci sta tranquillamente anche perché questa lingua di buyer, questa imperfezione tecnica ciclica che vedete in questo momento ed è fatta proprio alla perfezione come una classica imperfezione ciclica che tra le altre cose si sposano con gli stop hunting ragazzi. Se sapete cosa sono gli stop hunting? Sono le prese di profitto, di stop da parte delle whale che vanno a cercare proprio gli stop per eliminare, buttar fuori tanta gente. Quindi un classico da stop hunting e poi ripartenza. Questo significa anche che la probabilità che ETH abbia chiuso l'annuale, lo abbia chiuso a 489 giorni considerando l'inizio dell'annuale da giugno è molto alta perché questo trend è molto pronunciato. Ora c'è ancora l'ipotesi in atto che l'annuale di ETH possa continuare fino a febbraio-marzo dell'anno prossimo perché c'è la questione qui di questa struttura anomala e quindi ce lo portiamo dietro. È ovvio che a prescindere questo è un nuovo ciclo trimestrale, questo lo sappiamo, e va gestito in questo modo con un trend abbastanza pronunciato che però manca di una cosetta perché ETH manca ancora di un minimo pronunciato su Bitcoin per chiudere la sua maxistruttura. Quindi ancora qui c'è qualcosina che non si sposa bene con queste analisi perché teoricamente dovremmo avere un impulso di Bitcoin rialzista importante con un Ethereum che resta al palo per qualche giorno. E questa cosa qui con un Ethereum forte non sta tanto in piedi. Quindi sembra che ancora questi cicli debbano sincronizzarsi bene perché non stanno lavorando come dovrebbero con queste teorie. Ma poi a un certo punto bastano due news e tutto si sistema, ragazzi. L'anese ciclica alla fine poi è così, no? Se il mercato si adatta alla ciclica o la ciclica si adatta al mercato. Ovviamente io sono della fazione seconda ipotesi, quindi la ciclica si adatta al mercato. Però in realtà c'è anche la prima fazione, molti credono invece che sia il contrario. E questo è... nessuno sa quale è giusta, no? Nessuno sa quale è vero. Prima l'uovo, prima la gallina. Però in un modo o nell'altro i mercati poi si adattano. Allora, se in questa fase è iniziato un nuovo mensile, abbiamo un ETH che ha una struttura, vedete, che ha fatto un minimo qui da 22 ed è ancora spinto, è ancora pronunciato. Io vado dell'idea che qui siamo intorno ai 35-40 classici e poi mi posiziono il trimestrale nuovo intorno agli 80. Anche qui questo trimestrale predede tra 80-90 giorni circa una chiusura a fine dicembre-primi di gennaio, quindi lascio a ben sperare per un massimo in questa zona che sarà proprio metà dicembre dell'anno 2023. Massimo che potrebbe essere anche abbracciato da Bitcoin appunto con questa sincronia che ancora manca. Ed è importantissimo e si lega con questo grafico. Il grafico più importante per il 2024 è la Total Market Cap delle criptovalute escluso Ethereum, escluso Stablecoin, escluso Bitcoin perché a noi interessano solo le minuzie e la spazzatura, molti direbbero che in realtà non è così, detto ci sono anche progetti molto validi. Però ragazzi, allora, questo è un grafico composto che è stato creato appunto togliendo dalla Total Market Cap delle cripto, togliendo quella di Bitcoin e delle Stablecoin. e di ETH. Qual è la visione che noi abbiamo? È questa barra di congestione, ragazzi. Una visione imponente ed importantissima. Il bull delle altcoin inizierà quando questo livello verrà breccato. E qui è una informazione preziosa, ragazzi, perché indica una cosa. Primo, fase di posizionamento su progetti scelti di criptovalute iper-speculative che utilizzate per fare speculazione e non holding alla cieca. Ve lo ripeto, speculazione, quindi trading, investimenti speculativi, che è la stessa cosa del trading, anche se chiudete dopo un anno e mezzo, con stop applicato, con le regole di trading applicato, con tutti quelli che sono i paradigmi di un trading plan, un investing plan costruito alla perfezione. Lo dovete sapere se investite nel mercato cripto, dovete conoscere questi concetti, le informazioni di base sono essenziali, è importantissimo formarsi su quest'ambito, ma se avviene questo break, capite bene cosa significa, perché qui è una fase di accumulazione anche nel settore delle cripto. Si sta andando a creare il famoso rettangolone accumulativo. Se sopra i 297-300 miliardi di capitalizzazione dovessero breccarsi, probabilmente assisteremo a una serie di strutture iper-rialziste di tante criptovalute e poi bisognerà fare cripto picking, capire quali progetti sono interessanti, quali scegliere nel settore delle cripto, ma questo grafico ci dà una speranza, tra virgolette, e anche l'ottica della uscita dal bear market da parte delle cripto, non dei bitcoin. Bitcoin vi ricordo che è uscito dal bear market già da un po' di tempo, io ho fatto il mio classico annuncio all'inizio dell'anno 2023, quando vi ho detto non siamo più in bear market, l'ho detto dappertutto, sono un classico annuncio di quelli un po' simpatici che facevamo anche tempo fa. In questo caso vi faccio un altro classico annuncio. Il mercato delle cripto potrebbe uscire dal bear market, quindi escluso anche il team e il bitcoin, entro breve, se supererà questa zona qui. E questa è una grande news, credo per molti di voi che hanno ancora holding, purtroppo martoriati probabilmente, nel settore delle cripto, è una super news anche per chi si vuole riposizionare, iniziare dei pack, dei piani di accumulo, della dollar cost average, su alcuni progetti che magari sta seguendo da tanto, fate prima di tutto, analisi dei progetti, analisi dei team che ci sono dietro, non vi fate scammare, è pieno di scam nel settore delle cripto, va bene ragazzi, analisi dei progetti, analisi dei team che ci sono dietro, analisi delle community, sono fondamentali, poi analisi del grafico, se il grafico non vi dà il consenso, non si va da nessuna parte ragazzi, perché il grafico è l'ultima parola, il tassello, il bottone rosso del presidente, va bene, vi deve dare il consenso, è importantissima questa cosa qui. Però, questa è un ottimo grafico, lo monitoreremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché se questo grafico ci dà questa possibilità, e ci dà anche un'altra possibilità, cioè poi seguire tutto l'iter delle varie cripto, e di quello che succederà nel 2024, quindi un passo avanti, non quando avviene, lo vediamo prima ragazzi, e soprattutto cavalchiamo poi quell'onda, perché questa, se dovesse avvenire una nuova burranna, potrebbe essere impattante, ed imponente, perché nei periodi più bui, si vede e si intravede la prima luce, quando appunto il buio è più intenso, si dice sempre così, ed è vero ragazzi, questa cosa è sempre stata così, quindi bisogna ritornare a ragionare, usare i segnali, e la parte analitica per dire, questa possibilità adesso, inizia a intravedersi, solo dopo un anno di bull market di bitcoin ragazzi, e ancora non abbiamo il segnale definitivo, che è quello che vi stavo dicendo, però già guardare i progetti, qualche accumulo decente, fatto sui dip, eccetera, si potrebbe fare nell'aspettativa, che questa cosa avvenga, poi casomai c'è sempre un stop loss, fatemi sapere cosa ne pensate voi, e soprattutto avete iniziato, un piano d'accumulo sulle criptovalute, state iniziando il cripto picking, se si fatemelo sapere nei commenti, facciamo una live, dove è tutto in diretta, vediamo insieme questi progetti, che magari mi avete scritto nei commenti, li guardiamo, li analizziamo anche nell'analisi tecnica ciclica, e vediamo in effetti, se sono appetibili, perché no, va bene, ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video, buon inizio settimana.